Lo scorso anno rischiò seriamente di salutare la Serie D salvandosi solo ai play-out. Quest'anno rischia di fare altrettanto, ma per salire di categoria. Ed è il Nardò il play-off del girone H, autentica ciliegina sulla torta, di una stagione che rasenta la perfezione. Questo è il verdetto della finalissima di Cava, dove la Cavese non sfrutta il favore campo, perde 2-1 i supplementari e vede cancellate definitivamente le proprie ambizioni di promozione. Sono ancora vive invece quelle del Nardò, ora con le dite incrociate, in attesa dalla graduatoria di ripescaggio che verrà stilata settimana prossima dal Consiglio federale. La partita, in un Simonetta Lamberti a porte chiuse, la Cavese scende in campo con un 4-4-2 zeppo di qualità. Troise sceglie Banegas al fianco di Foggia in attacco con Mugnoz e Gagliardi esterni. Altobello e Fissore, coppia centrale in difesa, per lo stesso 11 sfoggiato contro il Casarano. Nardò con l'obbligo di vincere nei 120 minuti. Ragno propone un 3-4-1-2 a trazione anteriore con Gionai a supporto di Damblos e Ferreira. La novità è il giovane Stragapede a destra con Ciracì sul versante opposto. L'inizio è tutto di marca in retina. Dopo 3 minuti, Ferreira svetta su palla inattiva ma non cambia il parziale. È in giornata l'attaccante brasiliano. All'undicesimo va via di forza in aria, ma il legno sopra la testa di Colombo li nega un gol di pregevole fattura. Il Nardò vuole fare la partita con la pressione costante, ma la linea difensiva alta mostra il fianco alle incursioni campane. Al tredicesimo, sul lancio dalle retrovie, Foggia si invola a tu per tu, ma viola due volte e brava a murare l'ailune. Veramente un bello spot per il calcio direttantistico, quello che va di scena sul prato dell'Amberti. Scatenato Ferreira non dà meno il suo compagno di reparto Damblos. Qui prende palla da metà campo e conclude la sua cavalcata col diagonale out per centimetri. L'attaccante nativo di Porto Alegre chiude poi il primo tempo sgusciando per vie centrali, ma Colombo è attento nonostante una deviazione. Non inizia bene la ripresa per la Cavese. Capitano Altobello alza bandiera bianca, al suo posto Puglisi. Comincia tuttavia a carburare la formazione metelliana. Foggia difende la sfera a spalle alla porta, si gira, ma con la punta alza troppo la traiettoria. Il centro boa, Blufoncet, è altrettanto bravo nel chiudere la triangolazione con Rossi. Viola in due tempi, non corre pericoli. Ragno richiama Gionai per un trequartista puro come Montinaro. Troise lancia Tuminelli per Bezzon. La Cavese ha alzato i giri del motore, ma offre il primo regalo di giornata al Nardò. Puglisi frane ingenuamente su Ferreira lanciato verso la linea di fondo, calcio di rigore fin troppo solare, scaricato con rabbia in rete da D'Ambros per 1-0 dei Salentini. Non ha più nulla da difendere Troise. Dentro tutto l'assenale offensivo con Bubas e Bacio Terracino. Sembra in controllo il Nardò. A 5 dal traguardo, Fedel sbaglia la lettura. Tuminelli ha parecchia per Foggia, che col piazzato li mette tutte in discussione. 1-1 è contesa nuovamente a favore della Cavese. Si va ai supplementari. Foggia lavora per Tuminelli, ma adesso in cosa ha sballato. Non ne ha più Rossi. Troise pesca Basile dalla panchina. Attacca fortissimo la Cavese. Bacio Terracino sprinta a sinistra. Ancora Tuminelli si sgancia dalla marcatura, ma non modifica il tabellino. Lo fa e come il Nardò due minuti più tardi. L'incomprensione tra Colombo e Munoz genera un corner. Mengoli crossa dalla mischia, spunta la testa di Russo, che riporta in vantaggio gli ospiti. Nel secondo tempo supplementare non succede nulla. Si materializza dunque l'impresa del Nardò e la primavera horror della Cavese. Dopo quello con il Francaville e Insigni, Nicola Ragno vince il secondo playoff consecutivo con l'auspicio che il destino sia differente. Fatto sta che Nardò crede fortemente alla Lega Pro.